Ciao a tutti! Oggi prepareremo la panna cotta con salsa all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più il tempo di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono per la panna cotta, panna fresca per dolci, zucchero, colla di pesce ammollata in acqua fredda, aroma di vaniglia e qualche goccia di aroma d'arancia. Per la salsa, succo d'arancia, amido di mais e zucchero. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la panna cotta, mettere nel boccale lo zucchero, la panna, l'aroma di arancia e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimbi per 7 minuti, 80 gradi, velocità a 4. Aggiungere la colla di pesce ben strizzata ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità a 3. Versare la panna in basetti di vetro. Riporre in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, prepariamo la salsa all'arancia. Mettere nel boccale lo zucchero, l'amido di mais, il zucchero, il zucchero, il zucchero, l'amido di mais, il zucchero d'arancia. velocità a 3. La salsa è pronta, lasciamo intiepidire. La salsa si è intiepidita, adesso la verseremo sulla panna cotta. Riporre in frigo per altre 2 ore. Panna cotta con salsa all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta! Riporre in frigo per altre 3 ore. Riporre in frigo per altre 3 ore. Riporre in frigo per altre 3 ore. Riporre in frigo per altri 4 ore. Riporre in frigo per altri. Riporre in frigo per drawing.